Sono usciti pochissimi minuti fa quelli che sono i dati sul tasso di inflazione degli Stati Uniti che sono identici a quelli previsti, quindi un tasso di inflazione al 2,5 più basso degli ultimi due anni ed un tasso di inflazione anche sul mensile essenzialmente identico a quanto previsto. Bitcoin insieme anche agli altri mercati finanziari, quelli classici, la prende in maniera irrilevante come giustamente doveva essere, quindi un primo app da news, un classico app da ufficio di una news tutto sommato positiva, seguito da un dampone e poi il recupero. In sostanza non cambia assolutamente niente, è solo una classica volatilità con up and down che non modifica sostanzialmente i prezzi del pre-uscita del dato sul tasso di inflazione, cioè il prezzo di 56,7 mila dollari che è il livello di equilibrio di Bitcoin. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un breve aggiornamento per quanto riguarda la fuoriuscita di questi dati, l'uscita anzi è fuoriuscita un po' eccessivo, di questi dati sul tasso di inflazione e la reazione dei mercati e poi tre grafici interessanti da guardare. Intanto il grafico sul Nasdaq che è indicativo di una cosetta e poi a parte il grafico di Nasdaq 100 andiamo a vedere il grafico della Total Market Cap del settore delle cripto escluso Bitcoin, Ethereum escluso le stablecoin e poi il nostro grafico per eccellenza, quello di direzionalità di forza relativa tra Bitcoin e Nasdaq 100 che indica una posizione ciclica assolutamente riguardevole che va comunque tenuta sotto stretta osservazione. Allora prima di andare avanti ragazzi andiamo a guardare quelli che sono i dati sul tasso di inflazione e li commentiamo. Allora la fuoriuscita di questo dato non modifica le aspettative sulla discesa del tasso di inflazione degli Stati Uniti che comunque continua anche se forse il mercato si aspettava una uscita leggermente, un dato leggermente inferiore. Non è che non sia buono, è buono, però ricordiamo che comunque dobbiamo arrivare al di sotto del 2% e che le attese forse del mercato ovviamente ancora una volta eccessivamente positive erano quelle per un ribasso dei tassi di interesse di 0,5% invece di 1,025. Al momento, subito dopo l'uscita del dato sul tasso di inflazione le probabilità che nella prossima settimana, il 18 settembre, alla riunione, al meeting della Federal Reserve vengono abbassati i tasti di un mezzo punto percentuale e praticamente è crollata a 15% mentre è aumentata quella che indica che i tasti di interesse verranno abbassati di un quarto di punto così come da attese. Insomma, morale della favola, tutto prosegue secondo quelle che erano le indicazioni iniziali tutto prosegue secondo quelle che erano i dati iniziali della Federal Reserve non ci sono variazioni, non c'è nulla in termini di cambiamento radicale non c'è questo eccesso di pessimismo legato alla recessione al momento non se ne vede neanche l'ombra e così anche il dato sul tasso di inflazione lo manifesta due ribassi previsti entro la fine dell'anno dei tassi di interesse già scontati tra l'altro dei prezzi del mercato che a questo punto potremmo dire che se le cose resteranno così anche nei prossimi mesi e non ci saranno grandi sciacquoni in termini di dati macroeconomici probabilmente i mercati continueranno ad avere l'atteggiamento che hanno avuto e dove erano indirizzati già precedentemente intanto Bitcoin vedete come ha recuperato sostanzialmente i prezzi pre-dato sul tasso di inflazione e in sostanza non ha modificato in pratica il suo corso la sua naturalità probabilmente il complimento di questo trend discendente questo è un grafico di brevissimo il 15 minuti per poi ritornare probabilmente ad avviare un nuovo ciclo quindi qui sostanzialmente un ciclo daily di quelli piccolini insomma che si è andato a concludere iniziamo ad analizzare quello che è il primo grafico di cui volevo parlarvi oggi che è il grafico del Nasdaq la questione ciclica sul ciclo annuale di Nasdaq 100 questa è la centratura più probabile del ciclo annuale di Nasdaq 100 che è iniziato il 26 ottobre del 2023 ed è in fase di chiusura della naturale appunto del suo ciclo annuale teoricamente la naturale conclusione di questo ciclo annuale se dovesse essere secondo i classici schemi dovrebbe andare al di sotto di questo livello di pricing e quindi in sostanza dovremmo assistere nei prossimi mesi ad un ribasso di Nasdaq 100 per concludere questo andamento attenzione perché un andamento ribassista di questo tipo di Nasdaq 100 non è anomalo e non è per niente strano in vista della chiusura di un ciclo annuale sarà infatti il successivo annuale di Nasdaq 100 quello pericoloso cioè quello che qualora ci fosse il pericolo il problema legato a una recessione potrebbe in effetti indicare una fase prolungata di ribasso ma sul prossimo ciclo annuale avremo delle risposte anche da Nasdaq 100 quando è prevista la chiusura di questo ciclo annuale se è simile al precedente che l'ho messo identico non avviene praticamente mai che è identico al precedente però tanto a noi interessa un'area all'intorno appunto di un'area di tempo novembre del 2024 la scadenza è verso fine ottobre primi di novembre quindi in realtà non è proprio novembre preciso in ogni caso alla fine di questo ciclo trimestrale che è iniziato su questa struttura è partita il 5 di agosto e che è un po' deboluccia tra le altre cose qui vedete un livello che avevo inserito tempo dietro per quanto riguarda il famoso rimbalzo del gatto morto proprio di Nasdaq che in effetti è stato confermato ora la questione è molto semplice qui Nasdaq sta chiudendo probabilmente un ciclo primario quello di natura mensile che dovrebbe essere in fase di definizione 32 giorni 23 barre forse qualcosina in più potrebbe andarla a fare ma in sostanza dovrebbe essere in fase di chiusura o chiuso il ciclo mensile se è iniziato in effetti il nuovo mensile fate molta attenzione perché un breakout di questo livello di ribasso configurerebbe quello che vi sto indicendo all'inizio vi ho detto all'inizio appunto di questa analisi cioè la fase ribassista di Nasdaq che potrebbe continuare con grande probabilità andando a chiudere tutta la struttura è previsto un trimestrale da 90 giorni standard quella che è la centratura in questo momento utilizzata da un punto di vista ciclico è esattamente proprio precisa insomma con quello che sono i dati di natura teorica ovviamente non penso che il mercato la rispetti al 100% sarebbe un po' troppo semplice però in linea di massima possiamo andare a ragionare su questa centratura e quindi una scadenza intorno ottobre-novembre qual è la morale della favola? la morale della favola è che una fase ribassista di Nasdaq che possa continuare perché ricordatevi che se Nasdaq rompe questo livello del minimo quello del 5 di gennaio in pratica inverte il trend di breve periodo che diventa ribassista successivamente ci sarà l'altro supporto che è corrispondente al minimo del 19 di aprile ma dovesse breccare appunto questo il minimo successivo sarebbe già andrebbe già ad essere breccato perché in sostanza è leggermente superiore è un doppio minimo 17.373 e qui abbiamo un 17.351 quindi in realtà qui abbiamo già un minimo breccato che a me non piace tanto perché a livello di gloso vedete sono comunque questo è un ciclo che da close a close continua ad essere rialzista il precedente qui basterebbe un breakout di questo livello che insomma metterebbe in crisi questa fase ribassista invertendo il trend di breve periodo da parte di Nasdaq 100 quindi solo poi dopo una chiusura del ciclo annuale permetterebbe all'indice tecnologico americano di recuperare e di ritornare su un trend laterale o rialzista ma senza la chiusura del ciclo annuale in pratica non avrebbe scampo e continuerebbe il suo trend di breve ribassista quindi al momento ancora non ha rotto questo livello se dovesse invece recuperare i massimi precedenti e fare una cosa del genere vuol dire che qui è stato troncato qualcosina ed è iniziato un nuovo ciclo è molto improbabile che si vadano a fare dei massimi invece prima della chiusura dell'annuale di Nasdaq 100 poi ciò significa che se qui assisteremo magari a un trend molto forte vuol dire che qui è stato chiuso un ciclo superiore un annuale corto probabilmente o qualcos'altro un'anomalia ma non è certamente molto comune un atteggiamento del genere il più comune è quello che vi ho detto anticipatamente proprio in virtù di questo dovremmo andare a ragionare sull'altro grafico cioè quello che è il grafico di rapporto di forza relativa tra Bitcoin e Nasdaq 100 che è un grafico importante in quanto ci dà un'informazione da questo livello teoricamente è iniziato un ciclo di natura annuale e corta da 300 giorni questo non è del tutto obbligato in quanto noi possiamo ancora continuare ad allungare quest'annuale appunto fino a novembre come la chiusura di Nasdaq ed andare a completare questa struttura ammoternaria cioè facendola uno due e poi il terzo fatto così una roba del genere configurerebbe quindi un bimestre dopo settembre e ottobre molto delicato perché se Nasdaq completa la chiusura dell'annuale o Bitcoin non lo segue in maniera ribassista bensì non è solo quello deve addirittura accelerare al rialzo oppure la probabilità che qui anche il grafico in questione su Bitcoin contro Nasdaq possa continuare a fare un doppio minimo magari andando a ricercare una fase laterale ribassista qui per chiudere i giochi è molto alta quindi ancora una volta una view del genere sposterebbe tutto quelle che sono le velle itali alzista di Bitcoin da ottobre in poi e lascerebbe gli ultimi giorni questi ultimi 20 giorni di settembre nell'ottica di quelle che sono le serie storiche standard cioè un settembre laterale ribassista leggermente negativo nulla di anomalo nulla di strano nulla di trascendentale nulla che inficia il lungo periodo di Bitcoin niente di tutto ciò però nel breve periodo ancora un po' di sofferenza questa in particolar modo è un grafico che andremo molto a valutare in quanto è stato sempre molto preciso nelle strutture cicliche e quindi può essere veramente interessante qualora invece da qui inizi una struttura di rimbalzo di Bitcoin molto forte che porti questo grafico a tentare il breakout di questo livello solo se ci riesce appunto ragazzi a tentare questo breakout allora solo a quel punto potremmo poi parlare di una chiusura di un annuale già avvenuta qui un annuale molto corto ma prima di questa cosa io in un punto del genere terrei in considerazione l'ipotesi che qui l'annuale non sia ancora concluso bensì debba portare il tutto più avanti che sarebbe anche coincidente poi con l'annuale attuale di Bitcoin che in pratica andrebbe ad essere un un annuale vediamo se riesco a farvelo vedere da qui da questo grafico eccolo qui sarebbe un annuale ancora in fase di chiusura che non ha trovato proprio il suo minimo che non ha completato in pratica questa sua fase e che è iniziato qui dovrebbe poi andare a chiudersi proprio intorno a ottobre vedete portandosi avanti di un pochino quindi 400 e passaggiorni io qui continuo a mantenere al momento la view di questo minimo perché ogni minimo è buono in questo momento quindi ovviamente ne ragioniamo la probabilità che sia iniziato un mensile di Bitcoin aumenta ogni giorno che ci manteniamo al di sopra di questo livello ma ancora i dieci giorni non sono scaduti fino al lunedì prossimo quindi teniamoli in considerazione ancora in stand by ma ne ho parlato in video di lunedì di questa analisi ragazzi quindi andatela a vedere ultimo grafico di oggi invece è quello relativo alle altcoin quindi la salute del mercato delle cripto nonostante la questione della in pratica difficoltà palese delle criptovalute rispetto a Bitcoin qui c'è un trend laterale ribassista di tutto il mercato cripto che è iniziato dall'11 marzo della settimana dell'11 marzo 2024 e che ancora non ha trovato la sua naturale conclusione tra le altre cose in termini di chiusura medelle settimane ha fatto proprio un nuovo minimo nella settimana scorsa in termini di shadow no perché qui abbiamo avuto una ribassone nella settimana del 5 agosto morale della favola ancora una volta chiusura annuale a 427 giorni circa possibile qui di questo di questo grafico oppure continuazione fino ad arrivare a una chiusura più standard di 490 giorni molto lunga ma ci postano nei mercati delle cripto fino addirittura al 7 di ottobre è un po' lunghetto è qui quindi ragazzi iniziamo a ragionare sulle possibilità che da un momento all'altro questo ciclo possa essere chiuso anche per le altcoin e andare a vedere che cosa succede se non ci sarà una ripresa entro questi giornate già superato per esempio i 490 giorni vuol dire che sicuramente qui c'è stato un inizio di un ciclo o di raccordo oppure una lingua di buyer un'anomalia che sta concludendo e che la questione e che porta la questione ad essere estremamente pericolosa per tutte le altcoin quindi ripresa deve esserci entro pochi giorni per quanto riguarda i mercati delle altcoin mi sta bene fino alla fine del mese di settembre fino alla settimana del 7 di ottobre ancora questa lateralità ripassista ma da lì in poi ovviamente se parte prima è meglio una fase rialzista ma da lì in poi deve assolutamente ritornare a breccare questo livello di trendline che poi tra l'altro è la trendline che chiude il movimento al ribasso iniziato a marzo deve rompere questo canale ribassista e fare il break di questo livello soprattutto 550 billion di market cap che garantirebbe l'inversione di trend solo ed unicamente alla rottura di questi livelli potremmo assistere probabilmente ad una una specie di altcoin si sono leggera che potrebbe dare spazio al mercato di muoversi in maniera più interessante ma prima dell'avvento di questo a cosa qui non c'è trippa per gatti quindi però i giorni stanno scadendo mancano veramente pochi giorni una ventina trentina di giorni dobbiamo iniziare a vedere già qualche dato va bene ragazzi allora per oggi è tutto fatemi sapere anche voi cosa ne pensate questo mese di settembre sembra andare verso la direzione che ce l'avevamo detti cioè di questo laterale ribassista è un nulla di fatto fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.